Nato con l'obiettivo di mettere in collegamento figure professionali e aziende, LinkedIn è uno dei social network emergenti nell'ecosistema digitale. Coerente con la sua vocazione Open e per rinforzare ulteriormente le proprie politiche di OpenGov, il Consiglio regionale ha da poco lanciato il proprio canale LinkedIn. Trattandosi di un social network dedicato a esigenze di comunicazione e informazione professionale, consente di entrare in contatto con una platea fortemente interessata e contenuti su leggi, iniziative, studi e approfondimenti del Consiglio.